Eccoci e bentornati sul mio canale. Ragazzi cominciate a dimenticarvi di me perché ad ottobre barra novembre non mi vedrete più per un bel po' di tempo. Sto scherzando ovviamente però da ottobre a novembre ci saranno delle uscite importantissime per tutti gli amanti degli sparatutto. Partiamo subito. Il 21 ottobre è il giorno di Butterfield 1 quindi ce ne andremo subito a combattere nella prima guerra mondiale in qualche cosa veramente di devastante. Gioco sviluppato dalla DICE e distribuito da Electronic Arts. Ci saranno carri armati, navi, aerei dove addirittura potremo prendere il comando della mitragliatrice posteriore. Ci sarà veramente il delirio su Butterfield 1 e sono soprattutto curioso di vedere le mappe ambientate in Italia. Il 4 di novembre invece è il giorno di Call of Duty Infinite Warfare e Call of Duty Modern Warfare Remastered. Call of Duty Infinite Warfare sviluppato dall'Infinity World che ci porterà nuovamente nel futuro con una campagna ambientata addirittura nello spazio e un multiplayer che dovrebbe riprendere a grandi linee il gameplay di Call of Duty Black Ops 3. Call of Duty invece è Modern Warfare Remastered, è la versione rimasterizzata in alta definizione con tanti miglioramenti appunto a livello grafico e tecnico di Call of Duty 4 Modern Warfare. Questa versione rimasterizzata è stata sviluppata dalla Raven Software. Gameplay, armi, specialità, serie di punti e prestigi rimarranno fedeli ovviamente al gioco originale. Ancora invece non si hanno delle date per quanto riguarda Titanfall 2 di cui però si vocifera una data di uscita a ridosso di Butterfield 1. Ovviamente Electronic Arts non è preoccupata della cosa perché sono due giochi completamente differenti, uno passato, uno estremo futuro. Un altro gioco che dovrebbe sempre uscire fra ottobre e novembre è Sniper Elite 4, gioco solamente con cecchini. Troveremo cecchini, fucile di precisione e chi più ne ha più ne metta e anche questo gioco avrà delle ambientazioni in Italia. Quindi ad ottobre e novembre ragazzi dimenticatevi di me perché farò una chiusa su questi. Farò tutto ovviamente appena avrò le date anche di Titanfall 2 e di Sniper Elite 4 tornerò con un video dedicato. Voi qui sotto nei commenti fatemi sapere quali di questi giochi prenderete, io penso di prenderli tutti e cinque. E rimanete costantemente aggiornati sul mio canale YouTube per tutte le ultimissime notizie del mondo degli sparatutti. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi sul mio canale, mettete un bel mi piace sul mio video e ci vediamo ovviamente con tanti nuovi video sempre qui, sempre sul mio canale.